Un furgone blindato ha trasferito i soldi in un luogo sicuro e segreto. La nostra security controlla e non perde d'occhio il milione. Tutto il pubblico è stato identificato e sottoposto ad un controllo di sicurezza prima di essere ammesso in studio. E adesso che tutto è pronto possono tornare a giocare a Bermani.